Proseguono i lavori di riqualificazione della via Tumoglieri, traversa di via Licata, nel centro storico della città di Sciacca. L'impresa che sta intervenendo dovrà adesso adoperare dei camion per rimuovere il materiale di risulta del cantiere che dovranno stazionare nella via Licata. Il comando della Polizia Municipale, per consentire alla ditta di avviare e completare le operazioni necessarie, provvederà a interdire al traffico veicolare il tratto della via Licata, compreso tra l'incrocio con la via Roma e Piazza Marconi, interessato dalla movimentazione dei mezzi di cantiere. La chiusura, comunica la sezione viabilità del comando, avverrà da domani, mercoledì 15 gennaio, dalle ore 7 alle ore 17 per il tempo necessario all'impresa. Si prevedono circa tre giorni. Sarà consentito il passaggio solo ai mezzi di soccorso in emergenza. I veicoli che da piazza Saverio-Friscia imboccheranno la via Licata, al termine della cazza, dovranno girare a sinistra per via Roma. La via Tumoglieri era rimasta esclusa dal progetto di riqualificazione dei vicoli del centro storico approvato dall'allora amministrazione guidata da Ignazio Cucchiara. Nel 2013 venne redatto un apposito progetto e chiesto il finanziamento, ottenuto poi nel 2015 nell'ambito dei programmi integrati delle aree urbane. Ma soltanto lo scorso anno si arrivò alla stipula del contratto con la ditta Cosma Cassarelle di San Pietro Patti, in provincia di Messina, per un importo di 345.650 euro.